mi trovo a lido azzurro ma non so se effettivamente ridere o piangere perché certe assurdità certe follie amministrative della gestione melucci davvero sono incredibili dicevo mi trovo a e vedete è stato asfaltato un tratto di strada quindi uno potrebbe dire ma finalmente hanno fatto una cosa buona un tratto di questa di questa di questa zona dove ci sono appunto delle abitazioni delle villette è stata asfaltata misteriosamente però vedete c'è un pezzo di strada saranno forse un 200 metri 200 metri non di più questo pezzo di strada asfaltato termina qui lo vedete termina qui c'è tutto un altro pezzo non asfaltato non asfaltato e poi lì in fondo vedete all'angolo all'incrocio dopo l'incrocio riprende la parte asfaltata cioè tutto il risparmio che ha fatto l'amministrazione melucci è consistito nel non asfaltare 150 200 metri di strada vorrei capire con quale criterio questi scienziati hanno preso questa decisione mi domando a questo punto magari può essere stata una dimenticanza della ditta che ha eseguito l'opera di asfalto di asfaltatura della strada bo sicuramente gli uffici tecnici dei lavori pubblici non hanno fatto i controlli dovuti perché penso che un ufficio tecnico va sul posto verifica e dice ma veramente stiamo scherzando qui cioè avete fatto una strada da una parte dall'altra e poi un pezzetto una linguetta non l'avete fatta l'avete dimenticata o forse non lo so chissà quale mistero c'è stato per cui un tratto non si fa si doveva risparmiare questo perché ovviamente non c'è criterio non c'è sistematicità nel realizzare i lavori pubblici e soprattutto perché non ci sono i controlli da parte del settore lavori pubblici perché un settore va e controlla interviene l'assessore ai lavori pubblici interviene il dirigente ai lavori pubblici intervengono i funzionari ai lavori pubblici io avrò da sindaco avrò un rapporto molto ma molto diretto con gli uffici tecnici dirò signori cari o vi muovete dovete girare la città dovete fare i sopralluoghi e pretendo una relazione su tutti quei lavori per i quali è stato spesso danaro pubblico il danaro pubblico è il danaro dei cittadini io sindaco devo sapere è stata fatta questa strada bene tu funzionario mi devi dire fammi una relazione come è stata fatta bene male è stata come è stata il lavoro è stato eseguito a regola d'arte è stato fatto in maniera completa è stato fatto a metà questo evidentemente non si è fatto e non si non si è fatto con l'amministrazione melucci perché se questi controlli fossero stati fatti sicuramente sicuramente un qualcuno un funzionario avrebbe detto signori cari questo tratto non è stato asfaltato perché mai non è stato asfaltato non è che uno dice non 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 asfalto un tratto così per per gioco per dispetto perché evidentemente o c'è stata sciatteria all'inizio per cui nella proprio nel disporre i lavori non è stata prevista questa questa zona o addirittura non lo so nella nell'esecuzione dei lavori è stata dimenticata chi lo sa sta di fatto che è venuto fuori questo pastrocchio ma si sa melucci a dice di aver seminato la rinascita questa è la rinascita che ha seminato e insieme a lui di questi errori sono corresponsabili i suoi compagni di avventura in maggioranza in amministrazione musillo ha governato quattro anni e mezzo con melucci con i suoi uomini nelle partecipate è in giunta quindi quando parliamo di fallimento amministrativo dell'amministrazione melucci dobbiamo parlare anche di fallimento amministrativo di musillo e dei suoi amici signori né musillo né melucci io mi sono candidato sindaco perché dopo 21 anni di battaglie giornalistiche in cui ho denunciato l'incapacità amministrativa di tutte le amministrazioni dalla di bello passando per stefano ed arrivando a melucci ho detto voglio entrare a governare questa città perché credo di averne le qualità sono laureato in giurisprudenza con 110 lode specializzato in diritto amministrativo sugli enti locali ho maturato esperienza sul campo girando la città il centro e le periferie ascoltando le problematiche del territorio problematiche materiali e problematiche sociali per questo chiedo vi chiedo chiedo la vostra fiducia anche perché sinceramente considerando quella che è l'offerta degli altri candidati sindaco mi sembra davvero che scegliere loro significherebbe davvero ritornare nelle nelle paludi ritornare nell'abbandono in cui vi hanno melucci e musillo vi hanno confinato per quattro anni e mezzo di pessima gestione della cosa pubblica